Grazie, siamo qui con Edo e cercheremo di portare la mia Shelly e il suo del primo al grado 20, vai! Vediamo se lo riusciamo a fare. Raga, lo so che non ho fatto video per molto tempo, ma non ce l'ho voglia. Vediamo come fa questo video. Sei un proprio youtuber. Grazie al mio fan, Edoardo. Allora, non vediamo. Non se ne va, non è mai che se ne va. Eh, non me ne frega niente. Tutti via, già una squadra è morta. Benissimo. Da, me ne sono fatti. Via, ci siamo, eh. Stiamo giocando bene, me la sento questa. Io cercherò anche di portarmi a decine. Stiamo facendo delle partite e continuiamo a arrivare seconda. E a me l'alga. Pum, 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 pum. Ulti, ulti. Eh, non ce l'ho. E si prende tutti i poveri. Poi stiamo a Riedo. No, vai tra. Guarda quanto è sbilato. Guarda quanto è sbilato. Stiamo giocando il gioco un po'. Mi hanno deciso di fare un video così. Mi viene pure addosso. Ok, ci sono io. Sono morto. E non mi spara. Oh, l'ho killato. Prendi la cassa che c'era in fondo. Aspettiamo che ritorna il brawler, molto forte di me. Ha tre brawler. Due brawler a livello del grado 20. Poi Tara che ha l'abilità stellare. E io taro a livello 10 con 507 colpe. Con Tara spacco. Pum, pum, pum. Vai. Ha chillato. Boom. Ho poca vita. Ho poca vita. E si è morta. E' ben perso, è ben perso, è ben perso. Se riesci, se ce la fai. No. Eh, ho raggiunto troppo po'. Regà, siamo arrivati di nuovo. Questo è il caro. Questo è il caro. Te l'ho buffato. Fai giocare ancora. Troppo tardi. Un'ora che facciamo così, continua a dimenticarsi. Regà, vi porterò il video. Che forse faremo un box opening. Speriamo. Ci riusciamo. Tra l'altro anch'io ho grado 19 e 13 coppe. Edo, quando farò un box opening assisti anche te, dai. Vai, trovate. Scrivete nei commenti come si fanno fare le live che non sono capace. Lo so, regà, però non sono capace. Adesso cerchiamo. Ricordatevi che domani... Mi sta scottando il telefono. Domani Lorenzo sarà all'evento di Milano. Ea, dovete spaccare il tasto iscriviti. No, dovete iscrivervi e spaccare il tasto dell'impiace. Quanti mi piace vogliono per questo video? Per l'idea, come parla. 30 mi piace. Quanti iscritti hai? Aia! Devi arrivare te a fare l'iscrizione. Oh, 78 di vita quello lì, vorrei dire. Io ne avevo 36. Aia, 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 io sono morto. Sono morto, mastì. Tranquillo. Ho caricato la ulti, ho la ulti. Va bene, hai la ulti. Ho la ulti. Con la ulti? No, 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 cosa fai? No, dai, Edo. No, Edo, 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 Edo. Edo, 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 Edo. È ormai il nostro posticcino. Ogni volta ci mettiamo qua. Eccolo. Vai, la ritrovata. Siamo ancora cinque squadre e non va bene. Adesso cerchiamo di fare giocare il bot. Ha parlato, sono quattro. Adesso facciamo giocare il bot, venga. Vai. No, no. attento al bull c'è un colt con 400 di vita bull fa il bull io bull lo bullizzo perchè ce l'ho il 20 sii pronto che lato ho l'ultimo ho l'ultimo di nuovo cosa siete manco ho l'ultimo di nuovo guarda le skill no regà regà non ci credo zero ancora non ho fatto regà è incredibile quanto le stanno guardando quanto le stanno guardando la live stiamo facendo la live stiamo facendo un video ho chiesto come si faceva nei commenti bene regà dai che ce la facciamo dai manca poco manca poco io mi faccio queste due tu ti fai quello regà non non credo che lo abbia così tanto forte ok qua c'è bibi e frank ti ricordi bibi e frank come l'altra squadra di prima ti sei fatto la bibi mamma oh sta bibi sto bibi mi ha rotto oh 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 la bibi alla fine quando ti colpisci con la con la cosa oh 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 vai boom 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 ti ho detto di colpirla l'hai colpito al momento quando hai caricato la vita ulti alla ulti è bene buon per lui nostro obiettivo è arrivare secondi o primi quello sei lì guarda chi è dietro matti faccio tutti seguirlo anche la sua ragazza cinna vale no dai scherzo supporta creator ovviamente cup no tutti ma non cap no si si lui è bravo oh mi sono incostrato seguite chi volete non vi voglio conoscere no no il più bello supporta creator ferini chi più dai ragazzi tutti supporta creator ferini ferini lei ha pochi supporta creator quindi dai metti un giro d'accordo dai facciamola salire allora 3 2 1 via è melaga quindi non ci si boom boom e sei morto ci scommettevo regalmi guarda che inizio a sparare come mi scegli inizio a fare boom boom oh quello lì quello lì è easy da far aiuto aiuto sei morto sei morto sei morto sei morto uno uno no non ci credo non ci credo mi ha fatto perdere cinque tropei allora stava andando benissimo fino adesso appena è iniziato il video ma regà non l'ha ascoltato lo è scena tivo regà scrivetemi i commenti chi va all'oratorio e quale oratorio dai edu concentriamoci va bene fai giocare ancora te lo dico già da adesso fai giocare ok ok oh vieni qua vieni qua da me 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 perché perché sto cercando di maxare oh grande grande lato c'è scegli qua scegli io quattro power up fatta ah ti ho preso ti è killato un frank otto nove power up benissimo il mio schermo sta bollendo io voglio la ultima voglio la ultima c'è anche la ultima c'era un frank che voleva pagarmela frank è appena arrivato vai tranquillo l'ho riuccito per la seconda volta da notare il mio nome mi raccomando tutti col gx per dare un po' di supporto adesso farò un piccolo salto del video perché se no dura troppo raga vi faccio vedere all'ultima partita quando mancherà pochissimi trofei per arrivare al grado 20 e quindi ci salutiamo adesso mentre io no no finiamo la partita ok che questa mi sembra buona ti sembra buona per una vittoria ahia è morto calla mi sembrava buona ti sembrava ti lo fai schifo venga salta un po' raga siamo ritornati siamo a 499 tropei speriamo che adesso non li perdiamo vai 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 raga è stato veramente difficile per me ci sono stati un sacco di contrattempi ci abbiamo messo veramente tanto vabbè 5 minuti ci abbiamo messo guarda le casse al centro come volano via guarda come vedo io si può prendere qualcosa oh cacchio oh cacchio l'ho killato scappa scappa no raga io lo sapevo che adesso le perdavamo facciamo una cosa no raga dobbiamo arrivare secondi ora dobbiamo arrivare secondi questa partita arriviamo secondi almeno perché io io sto sperando cioè io non mi muovo più finché non ci sono due squadre basta finito ma dai mi dispiace ma io gioco così basta basta tutto il giorno sto giocando tutto il giorno no oggi mi sono oh c'è 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 Corvo no eh sono morto sono morto c'è Corvo come il drink cioè oggi mi sono fatto 400 euro 400 coppia mi sono fatto oh il drink è ancora lì non prenderlo perché Corvo ti ammazzerà è approfitto se l'è preso le ore il Corvo muore sono quattro squadre vado a prenderlo ci sono non potevi lasciarmela a me non è che c'è c'è l'àdò ok ora semun tu liggi l'òtu è sì ok ok mori 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 ríga ríga sjælar vium patta ríga sérna vium patta ríga Grado vinti per noi Grado vinti per noi Se la ti faccio pure lo screen Anche tu grado vinti? Ma io c'ho Bull E poi io c'ho anche Tara Vi saluto, ciao